Per salire su questa cassa, avvicinati a essa, premi avanti e quindi azione. Per effettuare un breve salto, cammina fino al ciglio, quindi premi avanti e salto insieme. Bene, adesso qualcosa di più complesso. Avvicinati al ciglio e dai un colpetto indietro, quindi premi avanti e salto insieme. E adesso il grande salto. Avvicinati al ciglio e dai un colpetto indietro, quindi premi avanti e salto insieme. Quando sei in aria, tieni premuto azione per afferrare la sporgenza. Per effettuare una pirouette laterale, premi sinistra e salto insieme. Per avanzare in sospensione, salta e tieni premuto azione per aggrapparti alle sbarre, quindi spingi in avanti. Per arrampicarti su questa parete, avvicinati e premi avanti e azione insieme. Tieni premuto azione e spingi in su per salire. Per modificare il verso di scalata, è sufficiente indicare nella direzione desiderata. Per procedere a carponi, tieni premuto il tasto per abbassarsi e spingi in avanti. Per attivare l'interruttore, posizionati in prossimità della leva e premia azione. Per nuotare, salta nell'acqua e usa azione per avanzare e i tasti direzionali per girare. Per nuotare, salta in sospensione, salta in sospensione, salta in sospensione, salta in sospensione. Per uscire, avvicinati al bordo e premi azione. Per camminare sulla fune, avvicinati e premi azione, quindi spingi in avanti. Se perdi l'equilibrio, controbilanciati premendo nella parte opposta. Per numero 5 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.